Cristina Sanzò, un nuovo ingresso in Giunta, lei si occuperà della città curata e tra i tanti temi caldi anche quello dei rifiuti. Sì, la comunicazione è giunta stamani, già durante la presentazione della Giunta mi è stato chiesto su questo tema ho detto datemi il tempo di contattare l'azienda, di capire la problematica, è ovvio che è già attenzionata, c'è un'attenzione pressante cioè già stata da parte del sindaco, nei prossimi giorni cercheremo appunto di capire con l'azienda cosa è accaduto soprattutto con l'impresa appaltatrice. Ecco, faceva riferimento ovviamente ai problemi che ci sono stati negli ultimi giorni nella zona del soccorso a Mezzana e non solo. Sì, sì, però ribadisco, non vorrei dare delle informazioni di cui non ho la puntualità perché ho saputo solo stamani che questa era la delega di cui mi sarei dovuta occupare. Ecco, tante appunto le problematiche che dovrà affrontare dalle periferie al centro storico per una città più bella, più decorosa, più pulita, come pensa di impostare questo lavoro? Ma intanto non partiamo dall'anno zero perché insomma vorrei dire che c'è un lavoro anche di continuità con tutto quello che è stato fatto. Ascolto, molta presenza sul territorio, confronto con le persone e cercare di comprendere insieme a loro e costruire una città aperta, pulita, che sia il più possibile rispondente a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Ma un percorso da costruire insieme, sì, io questo ci tengo molto. Grazie a tutti.